Possiamo presumere già da adesso che la prossima legislatura non sarà una legislatura molto solida. Eppure se fosse solida, cosa che noi auspichiamo comunque, non credo che le forze politiche per come sono combinate avranno la forza e la volontà di affrontare con decisioni temi come questi. Si vede, se in campagna elettorale non si affronta questo problema vuol dire che c'è qualche problema. Se durante la gestione della spending review ci sono state occasioni, almeno per dare segni come la vicenda delle province, come la vicenda delle municipalizzate e così via, non si è voluto toccare minimamente mettendo in piedi anche un dibattito davvero surreale, vuol dire che la politica da sola non ce la fa. Ecco perché noi riteniamo che un manifesto come questo vada appunto propagandato, vada gestito in rapporto con la gente in tutto il territorio nazionale. E noi speriamo che a noi si aggiungano tanti altri.